Oh, che bellezza! Un picassò! Un picassò! No, no, non voi! Questo l'ha dipinto nel 1962. A Pantlono. Dove non siete fregati! Allora! Oh, Dio, Dio, in Dario! Che è successo? Che è successo? Vitalità e stintilità. Siamo donne, siamo amiche, siamo superanti. Allivia meravigliosi... Lo devi mettere così, eh? Questa è la parte che fa il muro. Devi girare.